DS3 Crossback e E-TENSE DS3 Crossback e E-TENSE è l'espressione del brand parigino dell'elettrico adattato ad un mini crossover da città. Agile nel traffico, così come nei parcheggi, grazie al suo ampio raggio di sterzata, DS3 Crossback mette in risalto da subito le sue carte vincenti, sotto il segno dell'originalità. In primo piano troviamo interni ricercati, con materiali curati nell'aspetto. Dentro lo spazio a bordo per 5 occupanti non manca, si sta comodi anche se parliamo di una vettura lunga poco più di 4 metri. Non sarà da primato il bagagliaio, ma fa del suo meglio con 350 litri di capacità. Ebbene, questo è tutto merito degli ingegneri che hanno ben studiato il collocamento del pacco batterie per non andare a discapito dell'abitabilità. Lo vediamo integrato direttamente nella piattaforma della vettura. DS3 dichiara un'autonomia di oltre 300 chilometri con una ricarica completa e si consideri che già in mezz'ora si ottiene l'80% della carica per questo motore da 136 CV di potenza complessiva. 3 in tutto le modalità di guida con cui affrontare il viaggio, comfort, eco e sport, ed una coppia da 260 Nm disponibile da subito. Un'auto reattiva e scattante, con una guida fluida, dinamica e ovviamente silenziosa, merito anche della buona insonorizzazione. Il suo design è fuori da ogni schema, difficile non farsi notare visto la pill da auto premium e dettagli che ben pochi concorrenti sanno mettere in risalto. D'altronde non sarebbe una DS3 senza la famosa pinna sulla fiancata.